Grazie a tutti. Grazie. 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 ti strafissare e poi mi ricordo che quando pensavo di ma non avevo idea quando riuscivo a praticamente correggimi se sbaglio io mangio come parlo non ci faccio caso ma che cosa inventerai non puoi sfuggire al fascino dell'ignorante che invade casa tua e tu lo lasci fare stancante e cambia il canale c'è il telegiornale dopo la pubblicità apatia portami via uscire non dai quanta utopia e quindi spengo i miei due neuroni ed accetto entrambi i televisori ma da che cosa inventerai dai non puoi sfuggire al fascino dell'ignorante che invade casa tua e tu lo lasci fare stancante e cambia il canale c'è il telegiornale dopo la pubblicità e mi ricordo che quando sognavo di sparare a vuoto ma beccare la timoia io vorremmo spegnere vorremmo smettere vorrei poter armare tutti quanti e vorrei e e e e e e e e ma che cosa inventerai dai non puoi sfuggire al fascino dell'ignorante che invade casa tua e tu lo lasci fare stancante e cambia il canale c'è il telegiornale dopo la pubblicità grazie grazie